Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Cosmic Prison Sono qui nell'hub perchè ho un annuncio da farvi che in realtà dovevo uscire un po' di tempo fa Però poi tra le vacanze e tutto il resto ho avuto poco tempo per poter registrare i video Quindi poi tornato a casa in questi giorni ho finalmente preso un attimo qui la possibilità di registrare i video E quindi eccoci qua con questa nuova puntata Per annunciarvi una cosa molto molto importante Ovvero che la stagione di Cosmic si conclude qui Come ben sapete nell'episodio precedente avevo un attimo un po' espresso i miei dubbi sul continuo della serie Perchè uno semplicemente la serie mi stava annoiando e a lungo andare mi era diventata un po' monotona Sia penso da registrare che anche da guardare anche se stranamente a voi piace sempre Sono felice di questa cosa davvero sono felicissimo ma fortunatamente non mi sento di fare qualcosa Che per quanto possa anche andare bene sul canale perchè va bene Se portassi 7 episodi di Cosmic lo so che andrebbero bene Ma sinceramente non mi va di portare qualcosa che non mi piace registrare Perchè a lungo andare so già che poi mi creerebbe problemi E non mi verrebbe nemmeno più la voglia di mettermi lì a farmare per registrare In conseguenza avrebbe poco senso E il mio canale principalmente lo baso sul fatto che ho voglia di fare quello che faccio Altrimenti non lo faccio Seconda cosa il server in generale è abbastanza in declino e ci sono pochi player che ci giocano Quello in realtà è una cosa abbastanza normale anche perchè Cosmic è fatto così E diciamo che alla lunga è comunque noioso in generale anche lui In conseguenza quindi ho preso la decisione in questa puntata Già avevo parlato del fatto che avrei voluto comunque vedere un po' cosa fare Di concludere ufficialmente la serie E quindi ci ho pensato un pochetto E effettivamente la decisione finale è questa qua E' stata una serie molto lasciata A meno questa qui della terza stagione Però mi sono divertito molto a registrare Comunque è stato un po' un inizio Anche perchè è la prima volta che facevo una lasciata dall'inizio della season Di un pianeta nuovo Che comunque è la seconda mappa in realtà di Valderon E devo essere sincero è stato bello è stato carino Però ha comunque avuto il suo tempo di vita un po' più breve ovviamente Perchè era normale che sarebbe successo visto che comunque ho lasciato Però era giusto per portarvi qualcosa di nuovo e di differente E mostrarvi anche come si può giocare una serie in maniera differente Mentre la prima stagione in realtà la seconda stagione era un po' più tranquilla La terza è stata molto più veloce E praticamente mi hanno mostrato le cose basilari Che potrebbero aiutarvi tantissimo a lasciare un pochetto Una volta che c'è un reset su un pianeta o su un altro Nel caso in cui voi giocate ancora su Cosmic Quindi non ho altro da dirvi ragazzi Volevo tanto ringraziare di avermi seguito completamente In questa terza stagione di Cosmic Per il momento e per i prossimi mesi Non ci saranno nuove stagioni di Cosmic Quindi non chiedatemelo qui sotto nei commenti Non chiedatemelo negli altri video per favore Anche perchè è una decisione che ho preso Pesando abbastanza bene i motivi che me l'hanno fatta prendere come decisione Quindi chiedermi di fare Cosmic Quando vi ho già detto che sarebbe una cosa che mi creerebbe stress E semplicemente non mi piacerebbe fare Sarebbe semplicemente un modo di non ascoltare le cose che dico E effettivamente di non seguire il canale Quindi mi spiace davvero questa scelta Che molti di voi potrebbe sembrare insensata Però come ho già detto per me ha le sue basi E il suo senso Nelle scelte che ho fatto comunque Ringrazio ancora per avermi seguito anche in questa nuova stagione Ci vediamo domani con una prossima puntata Agli ore 15 con tanta altra roba Ovviamente è apparsa una nuova serie Qua sul canale Agli ore 15 La dovete vedere anche voi la mi raccomando E oltre quello appariranno altri video diversi Su altri giochi che non sono anche i Roblox Direttamente in questi giorni Quindi mi raccomando guardate anche altri video Perché Cosmic è bello Ma non è sicuramente tutta la vita E tutta la roba che potete vedere In Minecraft sul canale O comunque anche in generale su YouTube Quindi mi raccomando Abbiate una visione molto più ampia Delle cose da vedere E non guardate solo una serie Ma il mondo è bello anche perché è vario In ogni caso noi ci vediamo presto A un nuovissimo video Ciao ragazzi Ciao